Siamo nel dietro le quinte della Sagra della Seppia, in compagnia della signora Esterina, che si occupa della cucina, diciamo che è un po' la responsabile di tutto. Stiamo preparando la chitarrina, che è un piatto particolare, sta su internet, l'hanno inventata, ideata gli albergatori di Tortoreto, quindi tutti gli alberghi e i ristoratori dovrebbero fare questa chitarrina, se i villeggianti la chiedono. La chitarrina è fatta con gli spinaci, poi c'è un trito di seppie e vongole e viene fatto così, ecco gli spaghetti, il trito, poi ci va la ciliegina tritata con tita e poi ci va le vongole, che qui da noi è l'oro dell'Adriatico, perché le vongole ce ne sono tanti ed è proprio i marinari che hanno, insieme con gli albergatori, inventato questa tradizione di questo piatto.